Vedete questa nuovissima emote, gusto sgocciolante, prezzo 500 V-Bucks Andiamo invece sul bundle completo ragazzi, il bundle del cornetto 100 V-Bucks Ormai è un meme del canale Prima però vorrei ascoltarla, assima a voi e capire se è quella Dovrebbe teoricamente essere quella Ragazzi volume al massimo, andiamo Grazie a tutti